La seconda volta che visita Modena, è una città molto bella che ha cibo, cultura e tutto ciò che serve per il turismo. Il cibo tradizionale di Modena è comunque il formaggio, il vino, l'aceto e il maiale, quindi non basta una valigia per portare indietro le cose che si vorrebbe riportare in Cina dall'Italia. Lui ha comunque acquistato molte cose tradizionali, tipiche di Modena, da riportare a casa per quelli che ci stavano nella sua valigia. Modena ha tutte le lingue di lingue, le cose che vogliono vedere, come la fabbrica di farla, la città, 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 la città e la città. Ciao, Modena! Ciao, Modena!